Proiezione di essa Cerchio e seno attraverso NT raggio Tutto l'esistente non vivificato da un'essenza spirituale è permeato di principio cosmico che non è esclusivamente divinità ma è proiezione di essa e l'universo tutto si confà ed è compenetrato da tale principio Al pari dell'aria impalpabile, invisibile ed impercettibile con i normali mezzi naturali dell'uomo e tuttavia realtà imprescindibile alla sopravvivenza della materia che da essa è completamente compenetrata ed impregnata il principio cosmico compenetra tutta la materia non vivificata quale è quella dell'ambiente minerale e vegetale